Buongiorno, io sono Paolo Lucci e finalmente siamo qua alla Dakar dopo un percorso iniziato prima con il cross, poi con l'enduro e poi con qualche rally, qualche africano. Prima il Pan Africa, Merzuga, Africa Corace e quest'anno finalmente sono qui. Quanto è che vado a moto? Non mi ricordo nemmeno. Una quindicina d'anni e questo è un nuovo inizio, spero. Ciao a tutti, sono Leonardo Tonelli, sono un po' il giovinotto del gruppo Italia, sono il ragazzo un po' più giovane. Io ho iniziato ad andare in moto quando ero molto piccolino e mi sono avvicinato alla Dakar come il sogno della vita. Lo vedevo nelle cassette quando ero piccolo, lo vedevo Fabrizio, tra l'altro compaesano di Paolo. Sono arrivato qua grazie al motorelli, sono riuscito a vincere l'iscrizione gratuita al campione italiano e nulla. Ci approcciamo a questo grande evento come appunto una cosa molto grande, però dove impareremo sicuramente moltissimo. Un saluto a tutti da casa che ci stanno mandando un sacco di in bocca al lupo e niente, li sento molto vicini. Un abbraccio a tutti, ciao ciao!